A Pescara per i calendari della Serie B però con Ciro Venerato della Rai parliamo della Serie A partendo dal Napoli che è una delle big che ha deluso in avvio di campionato è stata soltanto una stecca iniziale oppure c'è qualcosa di più preoccupante? Diciamo che credo che sia stata solo una stecca perché il lavoro che aspetta a Sarri ovviamente è impegnativo ma richiede tempo, lo sapevano anche a Napoli c'è stata una sorta di rivoluzione copernicana dopo l'addio a Benitez nuovi metodi di allenamento, forse si è anche tornato a fare un certo tipo di allenamento che nei tempi di Mazzarri non c'era più, un nuovo modulo e calciatori che devono però sposare e credere in questo modulo, l'unico quesito che mi pongo è questo spero che tutti gli interpreti, mi riferisco in modo particolare a Insigni che gioca trequartista gli attaccanti abituati a giocare esterni che ora fungono da seconde punte e lo stesso Iguain abbiano lo stesso animus pugnandi che anima Sarri e molti protagonisti compreso anche il neo direttore sportivo che sta operando benissimo perché non era facile accedere a certi giocatori come Cristiano Giuntoli A centro campo e in difesa a questo punto chi ti aspetti in questa ultima settimana anzi in questi ultimi sei giorni di mercato? Il Napoli ha un sogno che credo rimarrà tale, Soriano è il nome che Giuntoli e Sarri hanno sempre cercato sin dalle prime battute di mercato a me risulta con certezza che Soriano comunque vada l'opzione Milan resterà la Sampdoria ma non verrà a Napoli perché per motivi suoi prettamente personali che conosco e che non mi va ovviamente di mettere in giro non accetta la distinzione partenopea quindi non c'entra la votazione economica della Sampdoria non c'entra la disponibilità della Sampdoria che se non lo darà Milan lo darebbe volentieri anche al Napoli ma c'entra il calciatore. Il Napoli sta cercando in quest'ultimo momento di convincere attraverso i suoi agenti Montipo e Tinti il calciatore ad accettare Napoli ma così non sarà e quindi si valuteranno opzioni alternative. Contro riguardo alla difesa ci sono stati tanti contatti con il Torino per Maximovic si è cercato Sala e adesso? Ma contro la difesa tutto è legato alle cessioni se il Napoli riesce a cedere bene Koulibaly al momento l'offerta del Bayern Leverkusen e del Southampton le uniche due offerte reali non soddisfano Giuntoli entrambi si sono fermati a 10 milioni il Napoli ne sogna 15 ma ne pretende almeno 12 senza una dismissione importante non arriverà in difesa un calciatore importante non sarà Ertò perché a me risulta che a Napoli piace Widmer che gioca in un'altra zona del campo se va via Goulam ma non certo Ertò non sarà neanche Dagrovic che è stato sondato se ne è parlato ma costa troppo il rischio è elevato secondo il Napoli potrebbe esserci un rilancio, un clamoroso rilancio per Maximovic che resta comunque il grande sogno di Sarri, di Laurenti e di Giuntoli ma prima bisogna vendere bene Koulibaly L'ultimissima tornata al centro campo da Firenze si sostiene che il Napoli sia pronto a fare un'offerta superiore a 10 milioni per Vessino al momento bisogna valutarla di sicuro è un calciatore che piace a Sarri, che ho avuto a Empoli e che il Napoli sicuramente sta trattando però tutto legato all'eccessione domani pomeriggio il Napoli aspetta una risposta ufficiale da De Guzman che potrebbe andare al Southampton al Sunderland e quindi bisogna capire se attraverso le cessioni di De Guzman e qualche altro tipo di operazione il Napoli lavava la forza per fare un'operazione importante fermo restando che comunque il Napoli stima Vessino ma non credo sia disposto ad aumentare l'offerta già fatta pochi giorni fa alla Fiorentina